Ben trovati anche alla pagina sportiva, in apertura la Lucchese, la conferenza pre-gara di Mr. Giorgio Gorgone in vista del match contro la Re Canatese. Avanti con tranquilla determinazione verso il match con la Re Canatese. Nella conferenza stampa pre-partita, al Porta Elisa, Mr. Giorgio Gorgone non svela fino in fondo le carte sulla formazione che scenderà in campo nelle Marche. Insiste invece sull'atteggiamento generale del gruppo che deve mantenere la barra dritta, consapevole delle proprie potenzialità anche a Re Canatese. È una partita che bisogna affrontarla con la consapevolezza che ci saranno momenti, come ci sono stati i momenti a Sestri Levante e contro il Sestri Levante che hai subito perché è normale che ci siano e viverli in maniera umile e serena perché capiteranno, però continuare a cercare sempre la vittoria comunque. Sugli 11 da scegliere Gorgone sembra orientato ad una conferma complessiva della squadra che ha vinto a Carrara ma non ha escluso possibili cambiamenti che non significa però stravolgere l'assetto di gioco. Nel complesso la Rosa è tutta a disposizione, a parte per Rotta, per un affaticamento. Gli attesi Magnaghi e Ieboa stanno sempre meglio e presto saranno gettati nella mischia ma solo nel momento opportuno, ha sottolineato il mister. Momento che dovrebbe arrivare nelle prossime partite. Già con il Gubbio sarà inevitabile un certo turnover. Ma è il prossimo pacchetto di 10 gare ravvicinate che costituirà la prova del 9 per tutto il gruppo. Dieci partite in 40 regioni sono tante. Spero di trovare un gruppo che lavora in maniera eccezionale. Spero che ogni qualvolta dovessero essere chiamati in campo si meriterebbero veramente di fare delle prestazioni ottime perché per come si allenano lo meriterebbero tutti. Va avanti la nazionale italiana nel campionato Under-19, campionato europeo di hockey. L'Italia supera senza particolari difficoltà l'Inghilterra e guadagna la semifinale contro il Portogallo degli europei di hockey su pista Under-19. Gli azzurri hanno sconfitto 12-1 la formazione inglese nei quarti di finale in un match in senso unico. Buone indicazioni per il CT e Alessandro Bertolucci che ha visto la formazione italiana più sciolta rispetto alle precedenti uscite. Oltre ai 12 gol realizzati, Marchetti e compagni hanno colpito 6 legni e sfiorato la rete in numerose occasioni. Italia che grazie alla vittoria sfiderà adesso il Portogallo in una gara sicuramente molto importante e difficile. Tutti gli effettivi portati a referto sono scesi in pista fuori dalle rotazioni Battaglini e Mechini. Per quanto riguarda le reti, segnaliamo, tre giocatori sono stati più prolifici del match. Tripletta per tomba, 5 gol nell'intero europeo. Barbieri, doppietta per tagliapieda, primi sigili per l'uniera competizione. Reti di Marchetti, Pesavento, Colamaria e Bozzetto. È tutto anche per lo sport, di nuovo la pubblicità, tra pochissimo la terza e ultima parte del TG Noi.